Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Continuano indefessamente e senza posa le sacrosante, e sottolineo l'aggettivo, sacrosante proteste degli agricoltori contro le deliranti politiche dell'Unione Europea, quelle che vanno sotto il nome orwelliano di New Deal Green, dove naturalmente il New Deal di Roosevelt non c'entra niente, da che si trattava di una benemerita misura keynesiana, laddove l'Unione Europea è strutturalmente costituita in maniera tale da non poter operare in direzione keynesiana. Le politiche cosiddette del New Deal Green sono semplicemente politiche neoliberali al 100%, che vanno a colpire spietatamente, come già o più volte sottolineato, le politiche del lavoro, come sempre accade peraltro nello spazio neoliberale dell'Unione Europea. Ora, come previsto, e direi di più come da copione, si sta realizzando quello che già avevamo paventato. Dapprima l'ordine mediatico ha provato a tacere in ogni modo delle proteste che montavano in tutta Europa, ignorandole e facendo finta che non esistessero tucur. Adesso, che non se ne può più tacere, dato che si stanno estendendo ed espandendo, dato che stanno conquistando sempre maggiore consenso, ebbene gli araldi del discorso dominante, i monopolisti della parola, sono giocoforza costretti a parlarne e lo fanno ovviamente nel tentativo di screditare le proteste degli agricoltori. Tutte le energie profuse dagli armigeri del pensiero unico politicamente ed europeisticamente corretto vanno ora nella direzione di una diffamazione permanente delle proteste degli agricoltori, che già tendono a essere ostracizzati come rozzi populisti e fascisti. Di più non vi è da stupirsi se il potere neoliberale proverà, come già sta facendo, a infiltrare folclorici e tossici residui veterofascisti all'interno di queste proteste per squalificarle. È una vecchia arma utilizzata dal potere inquinare le proteste per screditarle e per poterle poi diffamare e colpire, né il novi subsole, e non ci stupiamo dunque che anche in questo contesto il potere stia provando a seguire questa pista scellerata.